Dialogo della Terra e la Luna Terra, cara Luna, io so che tu puoi parlare e rispondere per essere una persona. Secondo che ho inteso molte volte da poeti, oltre che i nostri fanciulli dicono che tu veramente hai bocca, naso e occhi come ognuno di loro, e che lo vengono essi con gli occhi propri, che in quell'età ragionevolmente debbono essere acutissimi. Quanto a me non dubito che tu non sappi che io sono né più né meno una persona, tanto che quando era più giovane feci molti figliuoli, sicché non ti meraviglierai di sentirmi parlare. Dunque, Luna mia bella, con tutto che io ti sono stata vicina per tanti secoli, che non mi ricordo il numero. Io non ti ho fatto mai parola insino adesso, perché le faccende mi hanno tenuta occupata, in modo che non mi avanzava tempo da chiacchierare. Ma oggi che i miei negozi sono ridotti a poca cosa, anzi posso dire che vanno coi loro piedi, io non so che mi fare. E scoppio di noia. Però ho conto in avvenire di favellarti spesso, e darmi molto pensiero dei fatti tuoi, quando non abbia a essere con tua molestia. Luna, non dubitare di cotesto. Così la fortuna mi salvi da ogni altro incomodo, come io sono sicura che tu non me ne darai. Se ti pare di favellarmi, favellami a tuo piacere, che quantunque amica del silenzio, come credo che tu sappi, io t'ascolterò e ti risponderò volentieri per farti servizio. Terra, senti tu questo suono piacevolissimo che fanno i corpi celesti, coi loro moti? Luna, a dirti il vero io non sento nulla, Terra. Neppur io sento nulla, fuorché lo strepito del vento che va dai miei poli all'equatore, e dall'equatore ai poli, e non mostra saper niente di musica. Ma Pitagora dice che le sfere celesti fanno un certo suono, così dolce che è una meraviglia, e che anche tu vi hai la tua parte, e sei l'ottava corda di questa lira universale, ma che io sono assordata dal suono stesso, e però non l'odo. Luna, anch'io, senza fallo, sono assordata, e come ho detto, non l'odo, e non so di essere una corda. Terra, dunque, dunque, mutiamo a proposito. Dimmi, sei tu popolata veramente, come affermano e giurano mille filosofi antichi e moderni, da Orfeo sino al De De Lande? Ma io, per quanto mi sforzi di allungare queste mie corna, che gli uomini chiamano Monti e Picchi, con la punta delle quali ti vengo mirando, ad uso di lumacone, non arrivo a scoprire in te nessun abitante, sebbene odo che un cotal Davide Fabricio, che vedeva meglio di linceo, ne scoperse una volta certi che spandevano un bucato al sole. Luna, delle tue corna io non so che dire. Fatto sta che io sono abitata. Terra, di che colore sono cotesti uomini? Luna, che uomini? Terra, quelli che tu contieni. Non dici tu d'essere abitata? Luna, sì. E per questo? E per questo non saranno già tutte bestie gli abitatori tuoi? Ne bestie, ne uomini. Che io non so che razze di creature siano né gli uni né le altre. E già di parecchie cose che tu mi sei venuta accennando in proposito a quel che io stimo degli uomini, io non ho compreso un'acca. Ma che sorte di popoli sono, coteste? Moltissime e diversissime che tu non conosci come io non conosco le tue. Cotesto mi riesce strano, in modo che se io non lo dissi da te medesima, io non lo crederei per nessuna cosa al mondo. Fosti tu mai conquistata da ognuno dei tuoi? No, che io sappia. E come? E perché? Per ambizione, per cupidigia degli altri, con le arti politiche, con le armi. Io non so che voglia dire armi, ambizione, arti politiche, insomma, niente di quel che tu dici. Ma certo, se tu non conosci le armi, conosci pure la guerra, perché poco di anzi, un fisico di qua giù, con certi cannocchiali, che sono strumenti fatti per vedere molto lontano, ha scoperto costi una bella fortezza, coi suoi bastioni dritti, che è il segno che le tue genti usano, se non altro, gli assedi e le battaglie morali. Perdona, monna terra, se io ti rispondo un poco più liberamente, che forse non converrebbe a una terra suddita o fantesca come io sono. Ma è vero che tu mi riesci, peggio che Vanerella, a pensare che tutte le cose di qualunque parte del mondo siano conformi alle tue, come se la natura non avesse avuto altra intenzione che copiarti puntualmente dappertutto. Io dico di essere abitata, e tu da questo conchiudi che gli abitatori miei debbono essere uomini. Ti avverto che non sono, e tu, consentendo che siano altre creature, non dubiti che non abbiano le stesse qualità e gli stessi casi dei tuoi popoli, e mi alleghi i cannocchiali di non so che fisico. Ma se con questi cannocchiali non vengono meglio in altre cose, io crederò che abbiano la buona vista dei tuoi fanciulli, che scoprono in me gli occhi, la bocca e il naso, che io non so dove me li abbia. Terra, dunque non sarà neanche vero che le tue province sono fornite di strade larghe e nette, e che tu sei coltivata, cose che dalla parte della Germania, pigliando un cannocchiale, si vengono chiaramente. Luna, se io sono coltivata, io non me ne accorgo, e le mie strade io non le veggo. Terra, cara Luna, tu hai a sapere che io sono di grossa pasta e di cervello tondo, e non è maraviglia che gli uomini mi ingannino facilmente. Ma io ti so dire che se i tuoi non si curano di conquistarti, tu non fosti però sempre senza pericolo, perché in diversi tempi molte persone di qua giù si posero in animo di conquistarti esse, e a questo effetto fecero molte preparazioni. E nonché salite in luoghi altissimi, elevandosi sulle punte dei piedi e stendendo le braccia, non ti poterono arrivare. Oltre a questo, già da non pochi anni, io veggo a spiare minutamente ogni tuo sito, ricavare le carte dei tuoi paesi, misurare le altezze di cotesti monti, dei quali sappiamo anche i nomi. Queste cose, per la buona volontà che io ti porto, mi è paruto bene di avvisartele, a ciò che tu non manchi di provvederti per ogni caso. Ora, venendo ad altro, come sei molestata da cani che ti abbaiono contro? Che pensi di quelli che ti mostrano altrui nel pozzo? Sei tu femmina o maschio? Perché anticamente ne fu varia opinione. È vero o no che gli arcadi vennero al mondo prima di te, che le tue donne, o altrimenti che io le debba chiamare, sono ovipare, e che una delle loro uova cadde qua giù non so quando, che tu sei traforata a guise dei pater nostri, come crede un fisico moderno, che tu sei fatta, come affermano alcuni inglesi, di cacio fresco, che baumetto un giorno, o una notte che fosse, ti spartì per mezzo, come un cocomero, e che un buon tocco del tuo corpo gli strucciolò dentro alla manica. Come stai volentieri, in cima ai minareti, che ti pare della festa del Bairam? Luna, eppure avanti, che mentre seguiti così, non ho cagione di risponderti, e di mancare al silenzio mio solito. Sei caro di intrattenerti in chance, e non trovi altre materie che queste, e in cambio di voltarti a me, che non ti posso intendere, sarà meglio che ti facci fabbricare dagli uomini, un altro pianeta, da girartisi intorno, che sia composto, e abitato alla tua maniera. Tu non sai parlare altro, che di uomini e di cani, e di cose simili, delle quali ho tanta notizia, quanta di quel sole grande grande, intorno al quale odo che giri il nostro sole. Terra, veramente, più che io propongo nel favellarti, di astenermi da toccare le cose proprie, meno mi viene fatto, ma da ora innanzi ci avrò più cura. Dimmi, sei tu che ti pigli spasso, a tirarmi l'acqua del mare in alto, e poi lasciarla cadere? Luna, può essere, ma, posto che io ti faccia cotesto o qualunque altro effetto, io non mi avveggo di fartelo, come tu similmente per quello che io penso, non ti accorgi di molti effetti che fai qui, che debbono essere tanto maggiori dei miei, quanto tu mi vinci di grandezza e di forza. Terra, di contesti effetti, veramente, io non so altro, se non chiedi tanto in tanto, io levo a te la luce del sole, e a me la tua, come ancora che io ti fo gran lume nelle tue notti, che in parte lo veggo alcune volte. ma io mi dimenticava una cosa, che importa più da ogni altra, io vorrei sapere se veramente, secondo che scrive l'ariosto, tutto quello che ciascun uomo va perdendo, come a dire la gioventù, la bellezza, la sanità, le fatiche, e spese che si mettono nei buoni studi, per essere onorati dagli altri, nell'indirizzare i fanciulli ai buoni costumi, nel fare o promuovere le istituzioni utili, tutto sale, e si raguna costà, in modo che vi si trovano tutte le cose umane, fuori della pazzia, che non si parte dagli uomini. E in caso che questo sia vero, io fo conto che tu, debba essere così piena, che non ti avanzi più il luogo, specialmente che negli ultimi tempi, gli uomini hanno perduto moltissime cose, verbigeranza, l'amor patrio, la virtù, la magnanimità, la rettitudine, non già solo in parte, e l'uno o l'altro di loro, come per l'addietro, ma tutti, e interamente. E certo che se elle non sono costi, non credo si possano trovare in altro luogo, però vorrei che noi facessimo insieme una convenzione, per la quale tu mi rendessi di presente, e poi di mano in mano, tutte queste cose, non io penso che tu medesima, abbicaro di essere sgomberata, massime del senno, il quale intendo, che occupa così un grandissimo spazio, ed io ti farei pagare dagli uomini, tutti gli anni, una buona somma di denari. luna, tu ritorni agli uomini, e con tutto che la pazzia, come affermi, non si parta dai tuoi confini, vuoi farmi impazzire a ogni modo, e levare il giudizio a me, cercando quello di coloro, il quale io non so dove si sia, ne vada, o resti in nessuna parte del mondo, so bene che qui non si trova, come non si trovano le altre cose che tu chiedi. Terra, almeno mi saprai tu dire, se costi sono in uso i vizi, i misfatti, gli infortuni, i dolori, la vecchiezza, in conclusione i mali, intendi tu questi nomi? Luna, oh, cotesti sì che li intendo, e non solo i nomi, ma le cose significate, le conosco a maraviglia, perché ne sono tutta piena, invece di quelle altre che tu credevi. Terra, quali prevalgono nei tuoi popoli? I pregi o i difetti? Luna, i difetti, di gran lunga. Terra, di quali hai maggior copia, di beni o di mali? Luna, di mali, senza comparazione. Terra, e generalmente gli abitatori tuoi, sono felici o infelici? Tanto infelici, che io non mi scambierei col più fortunato di loro. Terra, il medesimo è qui, di modo che io mi maraviglio, come essendomi sì diversa nelle altre cose, in questa mi sei conforme. Luna, anche nella figura e nell'aggirarmi, e nell'essere illustrata dal sole, io ti sono conforme, e non è maggior maraviglia, quella che questa. Perché il male è cosa comune, a tutti i pianeti dell'universo, o almeno, di questo mondo solare, come la rotondità, e le altre condizioni che ho detto, né più né meno. E se tu potessi levare tanto alto la voce, se fossi udita da Urano, o da Saturno, o da qualunque altro pianeta del nostro mondo, e gli interrogassi, se in loro abbia luogo l'infelicità, e se i beni prevalgano, o cedano ai mali, ciascuno ti risponderebbe come ho fatto io. Dico questo, per aver dimandato delle medesime cose, Venere e Mercurio, ma quali pianeti, di quando in quando, io mi trovo più vicina di te, come anche ne ho chiesto ad alcune comete, che mi sono passate da presso. E tutti mi hanno risposto come ho detto, e penso che il sole medesimo, e ciascuna stella, risponderebbero altrettanto. Terra, con tutto codesto, io spero bene, e oggi massimamente, gli uomini mi promettono per l'avvenire molte felicità. Luna, spera la tua senno, e io ti prometto, che potrai sperare in eterno. Terra, sai che, questi uomini e queste bestie, si mettono a rumore perché, dalla parte dalla quale io ti favello, è notte come tu vedi, o piuttosto non vedi, sicché tutti dormivano, e allo strepito che noi facciamo parlando, si destano con grande paura. Luna, ma qui, da questa parte, come tu vedi, è giorno, terra. Ora, io non voglio essere causa, di spaventare la mia gente, e di rompere loro il sonno, perché, è il maggior bene che abbiamo. Però, ci riparleremo in altro tempo. Addio, dunque. buongiorno. Luna, addio. Buonanotte.